Everybody now, yeah! If you're coming to the corner, yeah, yeah! Come on now, everybody! Ah, per la pista. Ah, va bene, allora dovrebbe andare. Stia pure più vicino al cappetto che sei pronto ad andare in mezzo. Se per caso non dovessi esserci... Buonasera signora, ben arrivata. Prego il suo biglietto. Grazie. Buona serata. Buona serata. Buonasera signora Rozi. Grazie, il suo biglietto. Buona serata. Buona serata. Buona serata. Buona serata. Ciao!